Uololò, uololò, aiolo, aiolo... Ma hai poche ore di sonno o tipo mi devo iniziare a preoccupare? Ogni giorno il capo mi manda 10 pdf da ricopiare a mano in Excel. Io non ce la faccio più, io sono disperato, eh? No, ma non si vede, non si vede. Facciamo che ti insegno questo trucco. Bene, eccoci davanti al nostro computer. Sul desktop abbiamo un pdf chiamato Vendite Caffè e dentro c'è una tabella che vogliamo trasferire in Excel. Proviamo a selezionarla, andiamo su Copia ma quando facciamo incolla sul foglio ci accorgiamo che questo sistema non funziona bene quindi oggi ti mostrerò una funzione presente nelle ultime versioni di Office 365. Primo andiamo su Dati, Recupera dati, Da file e scegliamo infine pdf. A questo punto selezioniamo il nostro pdf chiamato Vendite Caffè. Nella schermata di navigazione Excel avrà analizzato tutte le tabelle del pdf quindi scegliamo quella che volevamo e andiamo sul pulsante Carica e voilà, tutti i nostri dati sono stati trasferiti. Mi raccomando, segui la pagina per altri trucchi e segreti e tagga un amico o un collega e da oggi anche su Instagram.